Benvenuti amici di SpazioGamers in questo nuovo video Oggi sono qui per farvi vedere la mia nuova build da gaming Una build da gaming studiata appositamente per avere il massimo delle prestazioni Ma risparmiando qualche soldino che male non ci fa Ebbene, perché se è vero che potete acquistare schede video come una 40-90 Per avere un numero spropositato di FPS E' anche vero che spendendo molto meno potete ottenere ottimi risultati Che non vi faranno rimpiangere così tanto una 40-90 Perché dopo un certo numero di FPS l'occhio umano non nota più le differenze Ma al contempo potrete salvare una parte dei vostri risparmi Quindi la build che vi farò vedere e che io ho assemblato per me E' una build che consiglio caldamente a tutti quelli che vogliono giocare al top E quindi avere dettagli a ultra sia in 2K sia in full HD Quindi questa build sicuramente non è dedicata a coloro che cercano un PC per giocare in 4K E vi farò vedere come con pochi piccoli accorgimenti potrete ottenere un'ottima macchina Dalle prestazioni veramente al top Spendendo realmente poco o comunque cifre molto più contenute rispetto a tante altre build Che vi vengono consigliate su altri canali Ma prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i componenti di questa build Vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E di condividere questo video con i vostri amici Detto ciò io lancio subito la sigla Dopodiché andiamo a vedere le componenti con le quali abbiamo assemblato questo PC che vedete alla mia destra Vi lascio poi sotto i link in descrizione di Amazon per poterli acquistare Sigla! E quella che vedete qui è la mia build attuale da gaming Come vedete è un mix di pezzi tra virgolette riciclati e pezzi e componenti nuovi Quello che vedete qui alla mia sinistra è il mio vecchio monitor 27 pollici a 60 Hz della AOC Che ho acquistato circa 6-7 anni fa, forse anche 8 Che come vedete ha una bella differenza rispetto a questo IPS Attenzione questo è pure un IPS Questo IPS dell'LG Ultra Gear acquistato da poco per la Games Week su Amazon A 279 euro in sconto, ottimo affare Quindi se l'ho trovato a questo prezzo io vi consiglio di prenderlo al volo Ma anche il 3,79 euro è il prezzo originario, comunque è un ottimo prezzo Parliamo di un monitor 2K, 27 pollici IPS Con un refresh rate di 165 Hz Compatibile con il G-Sync di NVIDIA Vedete c'è pure l'adesivo qua in basso, ci vedete E anche con la controparte di AMD Il monitor supporta HDR10 Che dirvi ragazzi, è uno spettacolo Cioè veramente per me è stato un salto di qualità pazzesco Come vedete il vecchio monitor l'ho messo come monitor secondario Lo utilizzerò per quando faccio streaming e questo lo uso per i giochi Vi faccio vedere la differenza a livello di densità di pixel Cioè qui come vedete si nota tantissimo Insomma il fatto che i pixel comunque si vedano Mentre qui non li vedete proprio Cioè è fantastico Quindi anche per questo io vi consiglio di restare sul 24 pollici Se decidete di prendere un monitor full HD Perché altrimenti avete questa densità scarsetta di pixel E di non andare oltre i 27 pollici se scegliete un 2K Quindi rischiate di avere un effetto simile a quello che avete visto a sinistra Su monitor 2K che vanno dai 32-34 pollici e così via Qualcuno è soddisfatto comunque dei 2K a 32 pollici Ma io personalmente ve li sconsiglio Restate sui 27 Detto ciò passiamo al pezzo forte Questo Il mio nuovo PC da gaming Che utilizzo sia per fare streaming Sia per giocare in 2K Con dettagli al massimo tutti a ultra Tra parentesi quando streamo e gioco Streamo sia su TikTok che su Twitch con OBS Quindi per farvi capire la potenza di questa macchina È quello che vi permette di fare Andiamo per gradi Quello che vedete qui è il Lian Li 011 Dynamic Evo Un case che è disponibile sia in bianco sia in nero E personalmente se siete disposti a spendere circa 200€ È un acquisto che io vi consiglio di fare assolutamente per la vita Perché vi assicuro che una volta che avete acquistato questo Il case non lo cambierete più per il resto dei vostri giorni È una TX Quindi supporta tutte le schede madre Tutti i formati di schede madre Ed è altamente personalizzabile Quindi potete smontare i pannelli al suo interno E assemblare il tutto come meglio credete Questa diciamo è la predisposizione standard Per ventole, schede madre e quant'altro Potete montare le schede video in verticale, in orizzontale Potete insomma personalizzarlo in ogni modo possibile L'unico difetto che io ho trovato con questo monitor È il fatto che comunque pesa parecchio Perché non è la classica lamierina dei case economici È molto solido, robusto E quindi anche smontando i pannelli di vetro temperato Che ci sono ai lati Quindi riducendo al minimo la struttura Sarete costretti comunque a sollevare un bel malloppone di metallo Che insomma si fa sentire in quanto appeso Qui abbiamo un hub frontale che potete sostituire in caso di problemi di guasti E insomma è qui il pannello laterale come vedete è forato Dietro ci sono i due hard disk che ho inserito nella parte superiore al disco Da 3,5 E sotto ci sta l'alimentatore ATX Alimentatore ATX che io ho riciclato dalla vecchia build In quanto avevo un Corsair CM850W Anzi scusatemi il CX se non lo ricordo male La CX850W Semi modulare All'interno cosa abbiamo? Vediamo subito 3 ventole della ASUS Staff Che ho comprato circa 50€ Quindi se volete risparmiare Se volete le ventole RGB Io vi consiglio queste Come vedete però ogni ventola ha due cavi Quindi a livello di cable management Poi vi ritrovate un po' di casino all'interno del case Visto che ci sono 3, 6, 9 ventole Ora se volete spendere qualcosa in più Trovate in commercio tutte quelle ventole a collegamento magnetico Che comunque vi permettono di eliminare un bel po' di fili Però costano un bel po' Insomma quindi valutate voi Sotto io ho montato delle vecchie ventole che avevo nere Sia per risparmiare e quindi riciclare qualcosina dal vecchio case Sia perché comunque non volevo che ci fossero troppe luci all'interno del case Perché quando sto al buio insomma possono dare fastidio le ventole luminose qui in basso Ma passiamo al pezzo forte Processore Sotto la pompa troviamo un i5-13005 Un processore con 24 MB di cache a 2,5 GB Processore che io vi consiglio altamente Perché se non avete esigenze di overclock Andare a spendere quei 100-120 euro in più di 13600K Francamente non vi cambia la vita Non è che andate a fare chissà quanti FPS in più Però il vostro portafoglio sicuramente vi ringrazierà Ad oggi secondo me il 13500 è il processore ideale per chi vuole fare gaming Andare a spendere di più con un i7, un i9, quello che è È assolutamente inutile ragazzi Non sono processori che per il gaming non li sfruttate Quindi il 13500 per me è il top del top Se volete risparmiare qualcos'altro potete prendere il 13400K Ma francamente ve lo sconsiglio anche perché poi viene castrata a livello di core e quant'altro Poi scheda madre Asrock B660 Still Legend Ragazzi una scheda madre che io non mi aspettavo essere così perfetta per tutto Ovviamente non serve andare a prendere modelli più costosi Con chipset più potenti In quanto comunque il B660 vi permette di sfruttare appieno la potenza di questo processore Ovviamente va aggiornato il BIOS Altrimenti non vi riconosce la CPU quando l'avete montato Però credetemi basta una chiavetta USB e in due secondi si fa tutto Ammaccando il bottone sulla rete della scheda madre La scheda ha tutto C'ha l'Ethernet 2,5 gigabit Supporta le DDR4 E ha diversi slot Sia per poter aggiungere una scheda wireless Se qualora vogliate il Wi-Fi Perché questa scheda non ha il Wi-Fi A me non serviva quindi non l'ho preso Dal momento che io gioco esclusivamente via cavo Per sfruttare appieno la fibra Sia slot aggiuntivi M.2 per collegare ulteriori SSD Per quanto riguarda l'SSD Io ho montato un Crucial da 500GB Sia per risparmiare qualcosina Quei 20-30€ Sia perché comunque sia Io non sono solito installare i giochi sull'SSD Metto tutto sul disco a status social Disco classico da 3,5 Quindi materialmente per me 500GB Basta ne avanzano per mettere programmi di sistema operativo E raramente qualche gioco online Che mi serve che abbia caricamenti veloci Partiamo alle DDR Abbiamo delle Vengeance della Corsair A 3600MHz DDR4 Con impianto RGB Chiaramente se non le prendete RGB risparmiate ulteriormente qualcosa A me piaceva fare l'arlecchinata qui E ho voluto spendere quei 20€ in più per avere i LED Queste con il profilo XMP Riescono ad arrivare credo a 4 GHz in overclock Quindi sono delle belle RAM Perché non prendere DDR5 Sia per risparmiare Perché già andate a risparmiare Sia sul costo della RAM Sia sul costo della scheda madre E poi anche perché le DDR5 materialmente Se potete andarvi a cercare una serie di test Che ci sono online A parte farvi spendere molto di più Non vi danno nessun vantaggio In quanto gli FPS che generano i giochi Sono esattamente gli stessi delle DDR4 Quindi non c'è un vantaggio Dimostrato nel gaming Ergo guardate al portafogli Prendete DDR4 Andate a risparmiare parecchio Sia sulla scheda madre Che sulle RAM Detto ciò passiamo al pezzo forte Poi qua abbiamo questo bellissimo radiatore Della Enermax Liquimax 3 Se non ricordo male Aspetta che guardo No, Liquimax 3 sì Bianco RGB da 360 mm Con ventole come vedete sempre RGB E' una pompa che credetemi è silenziosissima E non si sente Temperature al top Il processore non supera mai 30 gradi Neanche quando sto giocando in 2K Con tutto al massimo Che dirvi c'è E' una bellezza Con poco più di 100 euro Vi portate un prodotto ottimo Con un ottimo rapporto qualità prezzo Quindi detto ciò ragazzi Poi cosa abbiamo Niente Vi ho detto praticamente tutto Fate conto che Le ventole costano una cinquantina di euro Il radiatore un centinaio Il processore intorno ai 250 Ma credo che adesso si trovi a qualcosina in meno La scheda madre io l'ho presa a 160 euro Non so se è salita o è diminuita La scheda video ecco Io ho riciclato la mia GTX 1080 al momento Che al contrario di quanto dicono in molti Mi ha permesso di giocare fino a poche ore fa Death Stranding Con HDR attivo e tutti i dettagli a ultra Stando sopra gli 80 fps Con il monitor da 2K Quindi ho provato anche altri giochi E devo dire che nonostante sia una scheda di qualche anno fa Si difende egregiamente Sicuramente prossimamente la cambierò con una 40-70 Ma se volete giocare in full HD o anche in 2K Volete risparmiare qualcosa Potete optare anche per una 40-60 Ti Se poi non vi interessa il ray tracing Potete buttarvi sulle controparti AMD Che vi fanno risparmiare ulteriormente Un paio di centinaia di euro probabilmente Quindi potete prendere la 7650 La nuova serie 7000 Insomma tutta quella fascia lì entry level Di cui avrete sicuramente sentito parlare abbondantemente In questi giorni su altri canali YouTube Detto ciò ragazzi che dire Io poi qua c'ho la mia tastiera cinese della OK Questa non si trova più su Amazon Che devo dire che per quanto fosse costata 40 euro Si comporta abbastanza bene L'unico difetto sono questi led Che anzi possono cambiare di colore Ma vabbè E poi questo il mio gioiellino Il Red Dragon M711 Se non mi ricordo male Di cui ho fatto una recensione tempo fa Sul mio canale Potete andarvela a vedere Che è un ottimo host gaming Con un rapporto qualità prezzo Fantastico Delle componenti Al pari dei più blasonati Logitech E quant'altro Abbiamo insomma nel mercato Detto ciò ragazzi Io che dire Aspettate questa la basso Vi faccio rivedere la carrellata della postazione Non vi accendo i led che ho dietro la scrivania Perché dovrei fare un casino Con questo pc Giocate a tutto Quindi in 2k Dettaglia ultra Ma anche in full hd Con dettaglia ultra Quanto speso Nel complesso L'ho speso Credo intorno ai 1200 Compreso il monitor Chiaramente potete optare Per un case più economico Se non volete spendere 200 euro Per il linea lì Però sappiate che questo Ve lo portate per tutta la vita E c'è un'assistenza tecnica Pazzesca Che vi risponde subito In caso di problemi Vi manda i fatti sostitutivi e quant'altro Senza parlare di tutti gli accessori Che c'erano dentro la confezione C'era tipo mezzo chilo di viti Di burloni Monitor Per me Best buy del momento Questo LG da 27 pollici 2k A 165 hertz Poi che dire Il resto io Ve l'ho detto Ho optato per questo processore Western RAM Magari potete risparmiare sempre Venendo il modello Non a led Ma per il resto ragazzi Andare a spendere di più In questo momento Siamo a giugno 2023 E andare a spendere Per un i7 Un i9 Oppure un i5 Versione K 13.600 Quello che è Non ha assolutamente Senso Spendete di più E francamente Non ne giovate A livello di gaming Se poi siete persone Che ci fanno Non so Video editing Spinto Rendering E quant'altro Allora è un altro discorso O fate delle elaborazioni Particulari Con il vostro pc Ma il gaming Non va a sfruttare In maniera Egregia Come dovrebbe Determinate componenti Che costano Un occhio Della testa Quindi Fatemi sapere un po' Che ne pensate Di questa build Cosa ve ne pare Andare a spendere di meno Secondo me Non vale la pena Attualmente Queste secondo me Sono le migliori componenti Che potete acquistare Per un pc Che vi portate Per almeno 4-5 anni Se non addirittura Di più Quindi Vi lascio tutti i link Sotto in descrizione Per l'acquisto In maniera tale Che possiate comprarli E assembrarli Al meglio Fatemi sapere Se acquistate Questa configurazione Cosa ve ne pare Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao